benvenuti o bentornati qua nel canale del bighe oggi un video davvero interessante spero che appreziate ho in mano due droni ovviamente il mini 4k eccolo qua e il mini 2 sono due droni praticamente identici differiscono alcune piccole cose che vi racconterò in questo mio contenuto vi racconterò anche perché al momento io ho deciso di prendermi questo mini 4k e farci una playlist apposita e anche perché consiglio di chi ha il mini 2 il meteo mini 2 di non venderlo e tenerselo comunque stretto ci sono spunti importantissimi ma soprattutto ci sono spunti per chiunque abbia voglia di iniziare a volare a divertirsi ma soprattutto a fare roba bella roba bella in modo semplice senza impegno senza prova sarà macchina perché sono buoni strada è un classico per il bighe e senza impegni e soprattutto facendo cose davvero di grande grande qualità e livello qua alla mia sinistra c'è un piccolo castello siamo a circa 200 metri dunque manderemo il drone a vista li manderemo entrambi faremo un po di immagini video vedremo come si comportano e vi racconterò un po di cose le differenze tra questi due andremo a capire che differenze ci sono camera marcatura tutta una serie di cose e niente prima di iniziare vi chiedo ovviamente un like a questo video ma soprattutto un'iscrizione al canale se avete voglia di volare con un drone senza grossi sbattimenti ho creato una playlist proprio sul mini 4k e volare in modo economico e di livello con un drone dunque seguitemi la prima cosa che voglio raccontarvi è semplicemente questa questi due droni ovviamente sono un'evoluzione ma di fatto sono lo stesso la stessa esatta cosa perché sono identici abbiamo fatto una diciamo un un escalation no dal dal mavic mini e con una camera 2,7k una connessione wifi pessima però un drone che ha fatto il botto assolutamente per riscatto è stato veramente lo sparte acqua e in tantissime l'abbiamo avuto e tuttora ce l'hanno io stesso ce l'ho ancora poi è arrivato il mini 2 il mini 2 che ecco una connessione così che davvero veramente era un prodotto pazzesco dal mini 2 si sono tirati fuori dgi al mini 2 se un drone che di fatto ha abbassato la camera ha mantenuto il loco sync 2 rispetto a lui appunto aveva una camera 2,7 e costava un po meno però si diminuiva un po la qualità il mini 2 se è stato un drone venduto abbastanza però adesso beh cosa hanno fatto nei due non più in vendita da un bel po mini se ha abbassato il prezzo a 2,79 ma se ne sono usciti con il mini 4k un drone che praticamente è lo stesso identico a guardate ve lo faccio vedere una una camera vedete non so se si vede uguale di fatto ma in una c'è scritto 4k che è quella del mini 2 in una non c'è scritto niente ma sono entrambi droni che fanno riprese in 4k dunque hanno fatto un upgrade della camera e la differenza è che questo è un drone guardate ve lo faccio vedere marcato c 0 vedete non è marcato c 0 e questo è un drone che non è marcato c 0 e diciamo ci sono vantaggi e svantaggi per questi tipo di droni allora il diciamo e lo svantaggio è che questo drone non è più in commercio per cui che se chi ce l'ha devo dire se lo può tenere decisamente stretto perché ci si fanno tantissime cose non ha marcatura c 0 ma l'emtom dichiarato sul manuale per cui non ha la limitazione famosa ai 120 mi ricordo che 120 è il limite massimo ad altezza di volo ma in un terreno magari che livella può essere utile e se dobbiamo andare a salire magari anche questa cosa in tanti lo stanno ribadendo per cui lo so è vero è un vantaggio che ha il mini 2 rispetto al mini 4k ma ma il mini 2 purtroppo non è più in commercio per cui chi ce l'ha se lo tenga stretto e continua a usarlo perché la qualità più o meno è la stessa ma chi non ce l'ha beh adesso dji con una mossa a sorpresa e sto dicendo nei miei video anch'io ho decisamente criticato inizialmente perché ho detto un po di volte che hanno fatto un rimasuglio tra questi prodotti è un rimasuglio però interessante e intelligenti sono stati lungimiranti perché semplicemente hanno messo in commercio un prodotto una batteria dura 23 24 minuti a 299 euro e adesso passa una macchina e mi scappa da ridere perché i video del biga su questi direte sei a bordo di una strada per cui le macchine passano è vero ma sono stato ve lo giuro ho fatto delle prove un sacco di tempo qua in hovering per fare una ripresa da sopra la strada mentre la macchina arrivava ragazzi non è passata una macchina è assurdo è una cosa dai big e chi mi segue lo sa dunque andiamo avanti comunque con questi due droni diciamo che la qualità video è pressoché identica io ho fatto ovviamente le camere sono le stesse per cui troviamo la stessa lo stesso tipo di qualità bene e a questo punto andiamo avanti e vi voglio far vedere che praticamente tra questi due droni beh le differenze lato video non ci sono riprendono nello stesso d'antico modo funzionano allo stesso d'antico modo e ho fatto un mix di immagini che ho ripreso qui al castello qua nella campagna lungo la strada e vi faccio una clip una piccola clip vedete l'ansieme di queste immagini mixate che sono identiche e sempre davvero di grande qualità guardatela un po a e e Grazie a tutti. 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 Uno è led e uno è led, un led che si illumina, che serve a poco, però è un'altra piccola differenza tra questi due prodotti. Abbiamo affrontato il discorso della marcatura C0 e un'altra cosa da sottolineare importante e magari che dà un po' di vantaggio al Mini 2 rispetto al Mini 4K è la possibilità di avere l'SDK. L'SDK che è il kit di sviluppo di DJI che permette app di terze parti di usare appunto il drone al di fuori della DJI Fly. Un esempio su tutti ho un sacco di video fatti al Mini 2 con Maven, con l'applicazione di Michele Vagnetti che saluto e purtroppo si è un po' fermato ma ahimè è l'evoluzione di questi droni. Però vi dico che l'SDK per delle cose interessanti, esempio mi viene da pensare al mio amico David Ulivelli che ci fa fotogrammetria al Mini 2 ancora e si diverte usando Harmony, usando applicazioni di terze parti tipo l'ICI che servono proprio per volare con il drone senza usare l'app ufficiale DJI Fly. Cosa che purtroppo non si può fare con il Mini 4K, chissà può darsi che esca un'SDK è possibile ma ancora al momento non si sa niente ovviamente per il Mini 2 se non c'è vedremo un po' quello che DJI poi deciderà di fare. Beh certo ragazzi io mi sto divertendo tanto, spero che voi appreziate questo mio sforzo del condividere questi contenuti perché voglio avvicinare chi arriva nel mio canale a questo mondo. Io mi sono innamorato di questo mondo più di 10 anni fa, 12 anni fa, è stato un colpo di fulmine, adoro questo mondo, adoro alzare il drone e volare. E in barba tutti quelli che si stanno allontanando per motivi, ognuno ha i suoi motivi giustamente, io invece cerco di portare persone a avvicinarsi a questo mondo. Un mondo che da una parte è difficile perché è normative, problematiche, è tutto vero, ma dall'altra è un mondo fantastico perché se veniamo in una campagna come questa e alziamo il drone ragazzi, apriamo veramente il cuore. Ci vediamo alla prossima, ovviamente vi lascio la playlist sopra, avete trovato nelle schede di questo mio video, è sotto in descrizione sul Mini 4K. Iniziate a seguirmi perché se avete voglia di iniziare a fare roba bella con il drone e spendendo poco senza sbattimenti, beh l'occasione è seguire il Brighi. Ciao, alla prossima, ovviamente dalla Toscana, la Toscana come vedete bellissima e laggiù sullo fondo non si vede ma c'è San Gimignano, io lo vedo bene, purtroppo la camera allontana tantissimo ma siamo in un posto fantastico. Ciao, veramente tutto dalla Toscana, video lunghissimo e sempre.